Ciao a tutti, sono sempre io, Alessandro, amministratore del canale Commedia Alitaliana. Qualche giorno fa, sul canale YouTube ufficiale di Aldo Giovanni e Giacomo, è uscito un loro cortometraggio inedito risalente al 2006, Un filo intorno al mondo, della durata di 15 minuti, e diretto da Sofì Curiello, interpretato ovviamente da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. Ed è un cortometraggio che ovviamente ha già riscosso un grandissimo successo, che sarà disponibile fino al 3 giugno o dopodomani sul loro canale gratis, che ho visto l'altro ieri, ve ne parlo soltanto adesso perché ho avuto alcuni impegni, e che ha fatto letteralmente impazzire i più grandi fan ed estimatori del trio. Io come sapete apprezzo molto le commedie, non tutte, ma insomma soprattutto le prime e soprattutto quelle che casualmente sono le più apprezzate, perché di solito io vedo molto controcorrente, col trio no, sono molto d'accordo con la critica e con la maggior parte del pubblico. Apprezzo molti loro film, li apprezzo come comici, trovo che siano tre comici straordinari, tre bravi attori, e bravi anche in alcune loro regie, soprattutto in coppia con Massimo Venier, che poi li ha riportati al successo, non solo a livello di incassi, ma anche di qualità, a fine gennaio con Odio l'estate, uno degli ultimi film che hanno incassato veramente molto bene, forse l'ultimo incasso completo, se consideriamo anche lo stop forzato degli anni più belli di Gabriele Muccino, cinematografico dunque prima della quarantena, prima del disastro, del coronavirus, un film che usciva nelle sale il 30 gennaio, che ha incassato 7 milioni e mezzo di euro, se volete trovate la mia recensione sul canale, una commedia molto carina, che rivedrò a breve, perché Odio l'estate, tra un po' ragazzi ci siamo, e che tra l'altro è stata distribuita anche un demand da qualche settimana. A parte questo, però, Sofì Curiello dirige questo cortometraggio, o meglio, diresse, potremmo dire ormai, perché è passato parecchio tempo, 14 anni fa, e noi lo vediamo soltanto adesso, Odio Giovanni e Giacomo, in una realtà abbastanza particolare, una realtà di campagna di parecchio tempo fa, in cui sono se stessi, a parte forse il personaggio di Giacomo, che viene molto invecchiato, con un trucco, ecco, forse non perfetto, perché non sembra effettivamente avere l'età che dovrebbe avere il suo personaggio, ma diciamo che comunque si salva, ecco, non è un trucco perfetto, ma si salva, e con Aldo, che interpreta un postino nel suo perfetto stile, con Giovanni, che interpreta un contadino, se non sbaglio, e arriva una lettera nella casa di Giacomo e Giovanni, portata appunto da questo postino, che poi allo stesso tempo, insomma, scrocca il pranzo, perché giustamente c'ha fame, come tutti, e scroccando il pranzo gli legge la lettera, loro, mi sembra di aver capito che ovviamente non, che sono analfabeti, che non possono leggere, gliela legge lui a modo suo, sudando, mentre la legge, è molto simpatica quella scena, il figlio di Giovanni scrive di avere dei problemi, perché si trova in guerra, e in un contesto in cui c'è la neve, fa freddo, ha le scarpe bucate, non ce la fa più, sta soffrendo tantissimo, e allora succederà qualcosa che non voglio svelarvi, con un finale molto interessante, che neanche il trio, giustamente, ha svelato, ma c'è un colpo di scena alla fine molto interessante, sono 15 minuti ben messi insieme, che potrete gustarvi e potrete amare, soprattutto se appunto siete dei grandi fan di Aldo Giovanni e Giacomo, ma anche se li stimate in maniera anche un po' più distaccata come me, che chi mi segue lo sa, ho cominciato ad apprezzarli un po' più tardi, e quindi non sono, ecco, proprio i miei comici preferiti, ma sicuramente li apprezzo molto, e questo loro cortometraggio mi è un po' entrato nel cuore, perché mi ha riportato i loro primi film diretti da Massimo Venier, poi anche in coppia con loro, e di fatti si tratta fondamentalmente del primo lavoro, se non sbaglio, del trio senza Massimo Venier, perché siamo in un, almeno per quanto riguarda film e cortometraggi, perché siamo in un contesto in cui stavano per affacciarsi ai vari registi che poi li hanno aiutati, li hanno diretti, dal 2008 in poi, dal Cosmo sul Comò, brutto film, secondo me, in poi, prima ci fermiamo con Tu la conosci Claudia, e poi arriva questo cortometraggio. Quindi il primo lavoro senza Massimo Venier, diretto da Sophie Curiello, che porta, insomma, una buona regia, e in qualche modo tiene bene questi comici che sono ancora se stessi, che sono ancora molto ben assemblati, che lavorano bene insieme, e che regalano una grande gioia, in questo periodo di quarantena ai loro fan, quarantena terminata, ma, insomma, in questo periodo di merda, ecco, diciamolo, in questo bruttissimo periodo, regalano ai loro fan questo cortometraggio molto molto interessante. Vi invito assolutamente a vederlo se non l'avete ancora fatto, sbrigatevi perché dopo domani non sarà più gratis, non sarà più disponibile, quindi vi invito a farlo al più presto, e ovviamente se l'avete già fatto, come credo sicuramente abbiate fatto, perché ha già riscosso un grandissimo successo, vi invito a farmi sapere nei commenti cosa ne pensate, come vi è sembrato. Io l'ho apprezzato molto e l'ho trovato anche, ecco, molto sorprendente sul finale, con un bel messaggio, con un bel messaggio di fondo, e però anche con alcune scene veramente molto simpatiche, tra cui quella della lettera che Aldo legge, sudando, asciugandosi la fronte un po' alla Peppino De Filippo, in Totò Peppino e la malafemmina. Ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano!